Guarda qua, eccolo! Oh mio Dio, c'ha 2000 d'Italia! Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video su Minecraft e ci troviamo di nuovo nella modalità dei pitte perché il precedente video è andato veramente benissimo. Vi è piaciuta veramente tantissimo questa fantastica modalità. Sapete, abbiamo raggiunto i 500 di gold, abbiamo raggiunto il livello 10 e adesso dobbiamo semplicemente raggiungere il livello 15 per sbloccare tipo la ender chest. Ora vediamo un po' che cosa riusciamo a fare, andiamo qui e cerchiamo di cleanappare quelli che si stanno battendo in questo momento. Questo è il livello 63, wow! Cosa credevi di fare? Cosa credevi di fare? Che sta succedendo qua? Ma stanno laggando o stanno fermi? È vero che qua si può fare team, dobbiamo stare molto attenti perché qua la vedo veramente difficile questa partita, ok? Siamo saliti di livello perché quello lì che abbiamo colpito ha leftato, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Lo sapete, vorreste un altro fantastico video su The Pit? Raggiungiamo i 4000 mi piace, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti. Non me ne sono manco accorto ma stavo a livello 20, ecco cos'è successo. Comunque stiamo adesso a livello 22 e ho 540 di gold. Ho scoperto che le persone che hanno le scritte dorate sono semplicemente delle persone che hanno una taglia. E se uccidi quelle persone ricevi quella fantastica taglia. Ok, ammazziamo questo e ammazziamo anche il piccolo Alex, fantastico, che figata, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Dobbiamo cercare di trovare qualcuno che ha i nomi dei gold intorno, così possiamo prenderci la sua taglia. Ok, ammazziamo questo maialino che non è riuscito ad uccidermi e scappiamo perché devo cercare di guippolare. E ci sta un livello 66 che mi sta inseguendo, cosa credi di fare questo? Cosa vuole fare? Oh mio Dio se era forte, mamma mia, scappiamo, 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 aiuto. Ok, oh, è stato ucciso da qualcun altro, che figata. Ok, questo è livello 80, è livello 90, aiuto. Mi stanno inseguendo tutti, non è possibile, perché mi inseguono tutti? Cos'è questo pollo? Che cosa vuole? Ah, è un iscritto, ecco perché mi sta seguendo. Ok, non ce la faccio, non ce la faccio. Non è possibile. Sono spawnato e ho visto questa faccia e quindi mi son detto, perché non posso essere bello come questa faccia? Dove è andato? No, il piccolino, voglio andarlo a prendere. Voglio andarlo a prendere quella bellissima faccia, guardate quanto è puccioso. Che livello sta? Sta a livello 33, fantastico. Quello è veramente tanto tanto forte, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Chissà a che livello riusciremo a raggiungere in questo video. Spero di raggiungere il livello 50, sarebbe fantastico. Però ci vuole veramente tantissimo tempo per quel livello. Oh, guarda qua, abbiamo visto uno, ok? Perfetto, ci sta uno qua, FK, uccidiamolo, uccidiamolo. No! Oh! L'hanno abbassato di livello, avete visto? Fantastico. Quindi possiamo già comprarlo, perché nel precedente video stava a livello 1 questo perk. Eh, scusate, stava a livello 1, stava a mille di gold. Invece adesso l'hanno abbassato a 500 gold, l'ho preso subito. Semplicemente ricevo una golden head quando tipo ammazzo qualcuno. Ammazziamo questo full diamond che è veramente resistente. Non ce l'abbiamo fatta. Non ce l'abbiamo fatta! Guardate quel full diamond, è super resistente. Se riuscivamo a ucciderlo, prendevamo veramente tanta esperienza, secondo me. Allora, qua è la zona che adoro di più nei The Pit, perché qua è troppo divertente combattere. Perché sembra essere tipo nelle Bad Wars. Vediamo un po' se questo vuole buttarmi giù. No! Vuole semplicemente combattere contro di me in un campo aperto. Ok, l'abbiamo tipo stordito a mille volte e non è riuscito a uccidermi. Che figata! Siamo saliti di livello, siamo arrivati a livello 24. Sì, questa modalità è molto molto divertente e non mi aspettavo per niente che vi piacesse. Pensavo che fosse noiosa per voi. Quindi, se vi sta piacendo, arriviamo a 4000 mi piace e vi faccio uscire un altro fantastico video di questa modalità. Super super divertente. Ammazziamo lui che invece sembra essere tanto forte e poi ammazziamo lui... No, mamma mia, lei è troppo forte. Lei sta tipo a livello 88. È fortissima. Non ce l'ho fatta. Io sto semplicemente a livello 24. Cosa posso fare contro uno di livello 88? Allora, inseguiamo quello perché non mi sembra tanto forte. Poi mi sembra anche distratto. Anzi, non lo inseguiamo più perché rimaniamo in questo bioma. Questo bioma a me piace veramente tanto tanto. È veramente fantastico questo bioma. Rimaniamo qui e vediamo un po' di uccidere Power che adesso sta arrivando. Ok, guarda lì. Vuole combattere contro di me. Ma come? Ma quelli sono in team. Non è possibile. Non è giusto. Ok, facciamo una cosa. Andiamo ad uccidere lui perché lui è ferito. È ferito. Sì, che è ferito. Guardate, piccolino. No! No! Non è giusto. Muori! Ma non è possibile. Dai! Sì, ce l'ho fatta. Per sbloccare gli slot del prossimo perk dobbiamo per forza arrivare al livello 35. Che noia. Non possiamo neanche comprarci qualcosa di interessante. Possiamo comprarci una spada in diamante? Ce la facciamo? Sì, dai. Compriamoci una bella spada in diamante. E vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Oh, lui è un iscritto. Ciao, amico mio. Ok, andiamo in quel posto e cerchiamo di sopravvivere. Abbiamo comprato una spada in diamante. Non so che non si deve fare perché è veramente una cosa veramente sbagliata. Però la volevo fare. Ok, ok. Ho sbagliato. Ho sbagliato! No! Ho buttato i miei 100 gold. Non ci credo. Poi io stupido che sono andato nella stessa zona dove ci sta lo stesso team. Non è possibile. Adesso mi vendico su questi due e cerco di abbazzarli. Oh! Quello c'è la taglia! Questo c'è la taglia! Oh mio, c'è la taglia e questo. Non ci credo. Aveva la taglia. Avete visto? C'aveva i numerini intorno a lui perché c'ha una taglia. Se tipo lo uccidete ricevete quei soldi. Infatti, guardate, tutti stanno cercando di ucciderlo perché quello c'ha una taglia. Uccidetelo quello! C'ha una taglia di 50 gold e se lo uccidete ricevete 50 gold. Anzi, ricevete 150 gold. Fantastico! Vai, vai, vai! Sta mangiando teste in continuazione. Ecco perché le teste sono comode. Perché ti danno tanta rigenerazione e non puoi morire. Guardalo, guardalo. Eccolo qui. Dai, dai, tutti contro. Sì, l'hanno ucciso. Solo che non ho ricevuto la taglia perché non sono stato io a dare l'ultimo colpo. Non è possibile. Guardate che casino. Questo è proprio il depite. Oh mio Dio, questo qua c'ha una taglia di 150. C'ha una taglia di 1700 gold e quello non ci credo. Dov'è, dov'è? Andiamo da lui. Andiamo da lui perché se riusciamo ad uccidere quello riusciamo a farci 1700 di gold. C'è uno full diamond con la taglia di 1700 gold. Non l'ho mai vista questa cosa. Non ci credo, ma secondo me è anche italiano. Mi ha appena scritto se la sto registrando. Oh mio Dio, quant'è grossa quella taglia. Ok, facciamo una cosa. Uccidiamo questo che sta camperando qui sopra. Ok, ho evitato la sua freccia. Adesso voglio semplicemente buttarlo giù se ce la faccio. E invece no, ho sbagliato. Ok, l'abbiamo ucciso. Vedete, quando usate questa testa avete speed e tanta rigenerazione. Che figata. Perfetto. Ammazziamo questo se ce la facciamo. Chi vi vuole buttare giù nella lava. E riceviamo un'altra bella testa, secondo me. No, perché lui l'ha appena mangiata. Oh, che sfortuna. Ecco perché certi sopravvivono più di altri. Perché quelli mangiano una testa dorata. Questa modalità è veramente tanto divertente. Vorreste un altro fantastico video? Ditevelo nei commenti se vorreste un altro fantastico video. Mamma mia, sarebbe tanto bello uccidere quello con la taglia di 1700 gold. Guardate, si stanno tutti buttando lì nel canyon perché sicuramente è in quella posizione. Quello con la taglia così grande. Allora, vediamo un po'. Guarda qua. Eccolo! C'ha 2000 di... Oh mio Dio, c'ha 2000 di taglia. Non ci credo. C'ha ancora metà vita questo però. Oh cacchio, guarda qua. Non ci credo. Ce la facciamo ad ucciderlo? No, non ce la facciamo. C'ha una taglia di 2000 gold. Pazzesco. Eccolo. È lì sotto che sta continuando a scappare. Lo stanno tutti inseguendo perché tutti vogliono quei soldi. Non ci posso credere. Che figata che è sta cosa. Non ci credo. Allora, facciamo una cosa. Ammazziamo un paio di persone perché ci saranno alcune persone qui in mezzo che saranno tipo ferite. Ecco qua, avete visto? Mi sono fatto una bella uccisione e ho preso una bella testa dorata. Ne mangiamo subito un'altra così possiamo continuare a sopravvivere. Fantastico, avete visto? Il canyon è veramente tanto divertente da utilizzare perché puoi trollare le persone nella lava. Tipo questo possiamo buttarlo giù nella lava. Oh, c'è questo qua con la taglia. Mamma mia, sei veramente un tank. Guardalo lì. È invincibile. È impossibile da buttare giù quello. Avete visto? C'è quello lì. Se qualcuno adesso riesce ad ucciderlo, riceve 2000 di gold. Pazzesco. Ciao, iscritto. Eh, però combattiamo, vai. Combattiamo perché l'abbiamo fatto un po' arrabbiare. Sì, infatti. Ok, scappiamo perché mi stanno inseguendo. Aiuto! No! Mamma mia, mi hanno buttato nella lava. Non è possibile. Vai, vai, vai. Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare contro questo. Eh, sì. Questo c'ha ancora full vita. Non so se riusciamo ad ucciderlo, questo. Eh, invece ce la facciamo, sapete? Ha tre cuori rimasti e ce la facciamo. Sì! Fantastico. Quello lì è un iscritto. Perfetto. Non dobbiamo colpirlo. Ed è quello con la faccia pugiosa. Ciao, amico. Ok, vieni con me. Oh, grazie mille, amico mio. Mi ha regalato l'iscritto una bella mela d'oro. Guardate che faccia pugiosa che c'ha. È veramente troppo divertente da vedere la sua faccia. Dai, seguimi, iscritto. Che dobbiamo uccidere veramente tantissime persone. Ok, questo si stava shiftando, però mi dispiace, ma è arrivato un altro. Non volevo ucciderti, solo che mi hanno spinto contro di te. Anche se non uccidete qualcuno, ricevete il suo assist. E quindi potete salire di livello anche se non avete ucciso qualcuno. Quindi è una cosa fantastica. Basta colpire più persone possibili. Ok, questa qui sta a livello 15. Dai, dai, dai. Ci facciamo una bella kill, finalmente. Oh, ma è la ragazza di prima. Sì. Abbiamo raggiunto il livello 30. E adesso possiamo scontrarci contro questo. Ma questo è a livello 120. E l'abbiamo ucciso. Ma deve essere un iscritto, sapete? Perché mi sta continuando a targettare. È come se mi conoscesse. Facciamo una cosa. Scappiamo via. E cerchiamo di usare l'arco. Ok, quello c'ha anche in cuore di absorption. Non è possibile. Ah, adesso vuoi fare team. No, io non ci credo. Mi hai ucciso per 3.000 volte. Vai via, schifoso. Ok, finalmente ho raggiunto il livello 30. Quindi forse riesco a fare qualcosa. Dai, lo uccidiamo. Fantastico. Non ci credo. Che figata. L'abbiamo ucciso all'ultimo secondo. Che figata. Vai, vai, vai. Prendiamoci quella kill. Grande. Però mi serve una mela d'oro. Grazie mille, amico mio. Grazie mille per queste mele d'oro. Oh, lui sì che è un compagno di squadra. Fantastico. Ok, abbiamo ricevuto pure una testa d'oro. Grande hand bus. Sei veramente fortissimo. L'ho le screen. Vai, vai, facciamo screen. Perché sei veramente puccioso. No! Hai rovinato lo screen per sempre. E tu morerai per sempre. No! Hai ucciso il mio scritto. Oh, no, no. L'ho ucciso io. O forse l'ho ucciso io. Non è possibile. Scusa. Non volevo colpirti. Sto in una kill streak di 5 kills. Ok, facciamo una cosa. Cerchiamo di scappare. Perché qua mi stanno spaccando in due. Non è possibile. Oh, mio Dio. Questo qua è super arrabbiato con me, secondo me. Per questo mi sta continuando a inseguire. Guardalo. Vedete? Mi stava continuando a targettare. Però l'ho ucciso ugualmente. Oh! C'è sempre questo scheletro a livello 17 che vuole combattere. Schifoso. Ma chi è questo? Oh! Ma questo è Luca. Non ci credo. Ciao, Luca. XLuca12. Non ci posso credere. Grazie mille per questi regali. Non ci posso credere. Possiamo collaborare con un god a livello 100. Perché sì, lui è un god. Lui è sicuramente una persona fortissima in questa modalità. Ok. Andiamo a scontrarci contro queste persone. Ok. Quello è uno scheletro. E deve sembrare essere forte. Luca, seguimi. Dai che ce la facciamo. Uccidiamo tutti questi se ce la facciamo. Sì. Fantastico. No, non toccate Luca. Non toccate Luca. Non dovete toccare Luca. Perfetto. No, mi butta giù. No, non voglio perdere l'armatura. Non ci credo. Scusami, Luca. Mi hanno buttato giù. E ho perso la tua armatura in diamante luccicante. Dai che manca poco per il livello 35. Cosa? Abbiamo appena ucciso qualcuno che stava mangiando una mela d'oro. Piccolino, poverino. Ma che sta succedendo qua? Ma c'è qualcuno qua incastrato tipo che sta a una taglia di 2000 gold, secondo me. Stiamo in mezzo e combattiamo contro tutti. Vediamo un po' che cosa succede. Non ci sto capendo niente, però vediamo. Forse riusciamo a sopravvivere. No, non ce la facciamo neanche a sopravvivere. Là dentro sta succedendo qualcosa. Mi sa che ci si è inficcato dentro uno con una taglia grande. Infatti ci sono andati tutti dentro a combattere. Oh, scusate. Oh, scusa, scusa, scusa. Tu sei il mio iscritto. Anche tu sei il mio iscritto. Aiuto. Aiuto. Attenuto, attento, attento, attento. Questo invece non è un iscritto. No, no, no. Questo non è un iscritto. Ha, ha. L'abbiamo ucciso. No, c'è il piccolo Steve a livello 2 piccolino. Vedi qui. Guardalo. Oh. No, no. Cosa? Hai rubato la mia uccisione. Come hai usato a rubare la mia uccisione? Guarda questo. Guarda questo che è venuto. E abbiamo sbloccato un altro perk. Sicuramente abbiamo sbloccato un altro slot. Infatti abbiamo 500 di gold. E cosa possiamo comprarci? Eh, non possiamo comprarci niente. Perché dobbiamo cercare di fare più soldi. Perfetto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vorreste altri video su The Pit? Arriviamo a 4000 mi piace. Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao.